allora vivaldi concetto per due mandolini in questo caso siamo onorati di avere due chitarre che fanno il concetto di vivaldi appunto rv 5 3 2 in sol maggiore bellissima solare e non maggiore solare tonalità molto divertente non si vede ma tutti stanno facendo il sorriso grazie a tutti 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 grazie a tutti